Sarei Aspoli, bambini e 61 kg, si preparano. Chiosolo Gialla e Serpisona, capitolo, si preparano. Sarei bambini e 61 kg, chiosolo Gialla e Serpisona. Sarei Bambini e 61 kg, chiosolo Gialla e Serpisona. Sarei Bambini e 61 kg, chiosolo Gialla e Serpisona. Sarei Bambini e 61 kg. Sarei Bambini e 61 kg, chiosolo Gialla e Serpisona. Sarei Bambini e 63 kg. Postura, 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 dai, 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 mani sotto le accelle, dai, spingi la via, col timono sotto le accelle, dai, giusto, posso farsi? No, stiamo a salire adesso, tagli il braccio, tagli il braccio, tagli il braccio, tagli i pozzini, dai che c'è il braccio tese, subito, mani sui fianchi, dai, ok. Roppiti la base, tirai dentro, tirai i with, tirai i comini, non tira dentro i comini, bravo, bravissimo, ce l'è altro, mani, ce l'ha, ci l'ha, dai, Vincere, pistola. Così, ok, mi dai, apri sta guarda, 2.10, occhio, occhio, costura, costura. I luoghi ai tuoi piedi, è uscito. Vai, a tra i tuoi piedi, a terra, occhio, irrito. Mettico la primo numero 4 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 1,30 A sentire requirement Per i services a vedere così ora c'è il timono sotto la cella e sprozza ok il giro più sotto il cubo alza qui alza qui alza qui così il copino è nuova in te il copino occhio alla stura pressione pressione ci sei ci sei ci sei ok 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 non ci resta tranquilla vieni là mano testa ok vieni la far passare vieni la vieni la ballerina dai vieni la ballerina vieni la ballerina forza devi resistere così gira gira pressione pressione adesso è così resiste basta basta vado sotto il sedere riparta riparta spiancia 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 sottolinea la gamba suono vieni la Gonzalez sui vieni la vieni la vieni la vieni la lma vieni la vieni la in in la Grazie a tutti.